ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video oggi è un momento faremo una cosa per avere musicali allora prima di tutto dobbiamo andare su safari e scegliere un logo di musicali e poi salvarlo cliccate qui e cliccate su aggiungi a foto poi dovete andare in quest'app che non hanno tutti solo per ios e per ios 12 in più che è comandi accedete e fate più aggiungi azione scripting e scegliamo apri l'app scegliamo quest'app sarebbe giusto fate qua musical.ly aggiungiamo scriviamo di nuovo musical.ly ci clicchiamo qua scegliamo la foto l'aggiustiamo bene così da sembrare reale aggiungiamo l'ho già aggiunto ora quando ci cliccheremo possiamo anche nascondere tik tok possiamo modificare la schermata home possiamo muoverlo di qua tipo sociale very simple ora quando ci cliccheremo escerà fuori cosa tik tok spero che vi sia piaciuto non ci mettiamo ad un nuovo video ciao